Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 14 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Profumo di casa, sentore di vacanza. Il vostro astro guida venere in compagnia di Mercurio, entrambi in quadratura, vi conducono alla cassetta della nonna, profumata di aromatiche e di frutta, appuntamento fisso di ogni weekend estivo. Certo, non sarà una villa californiana o uno chalet sulle montagne, ma almeno respirate aria fresca rilassandovi dopo una torrida settimana di super lavoro. Eccolo qui il vostro chiodo fisso, sottolineato dalla luna in sesta casa, è lì che in questa parentesi di tanto in tanto corre il pensiero a ciò che siete riusciti a ultimare e a quello che rimane sulla lista delle pendenze. Di questa piacevole parentesi vi rimarranno le verdure dell'orto e una crostata deliziosa, ricordi, ma già dopo domani, risucchiati dal vortice della quotidianità farete in fretta a rientrare negli abiti da lavoro e riabituarvi all'inquinamento cittadino. Di buono c'è un fisico in forma e la prospettiva del viaggio che vi aspetta tra qualche settimana, chi la dura la vince. Uomo di media età, potrebbe essere anche il fidanzato, il marito, un giovane genitore. Un buon lavoratore che ha consolidato la sua posizione economica, un professionista che vive in condizioni agiate. Possibili entrate finanziarie improvvise, fortuna al gioco. Alcune somme di denaro che dovreste avere si possono incassare abbastanza agevolmente, approfittate di questo momento favorevole e cercate di recuperare quanto potete. Se pensate che tutto vi va a storto, consolatevi, alcuni di voi da questo periodo triste sapranno trarre grandi vantaggi. Amore e lavoro spesso non vanno d'accordo, se siete soci o lavorate con il vostro partner oggi potrebbero verificarsi delle tensioni e avere qualche discussione di troppo. Fate in modo da chiarirvi subito. Qualcuno con voi non è sincero. Non scacciatelo ma usate prudenza e siate circospetti. Buoni sì, scemi no. Dal passato qualcuno potrebbe ritornare ad affacciarsi nelle vostre vite. Cercate di non farvi false illusioni. In casa regnerà l'armonia e la serenità. Momenti di romanticismo. Ottimismo diffuso e in amore ancora qualche piccola novità e piccoli slanci ed entusiasmo. Sgualcireste un vestito appena comprato? Perché allontanate le persone appena le avete consociute? Se oggi parcheggiate l'auto attenti a dove lo fate, oggi è una giornata in cui potreste essere multati e non serviranno le scuse. Non abbiate timore di esprovi troppo in una situazione che dovete assolutamente chiarire, non preoccupatevi di andare a fondo della questione e chiarire il vostro punto di vista. Non c'è peggior cosa di un malinteso. Quadro di alti e bassi oggi nel tono e nell'umore. Venere, vostro pianeta guida, è in una zona dello zodiaco per voi non proprio congeniale, il leone. Qualche tensione familiare la dovrete mettere in conto. La vostra forma fisica è in uno stato di completa grazia e specialmente se appartenete alla componente femminile del segno. Con Plutone in angolo disturbante, cercate di mantenere sempre intatto il vostro aplomb e non vi lasciate trasportare in polemiche e contrapposizioni che potrebbero disturbare il buon umore. Saturno nel segno vostro fidato alleato dei pesci, se siete nati in maggio, minimizza e cancella del tutto ogni screzio. Al lavoro anche oggi, così segnala la luna bilancina in sesta casa, ma potrebbe anche trattarsi del lavoro che svolgette a casa vostra, tra la preparazione dei bagagli e le grandi pulizie prima di chiudere porte, finestre e inserire l'allarme. Di sicuro funziona contro gli intrusi ma non contro le formiche, ecco la ragione del vostro grande affare, soprattutto coi pavimenti e gli armadietti in cucina, esperienza che non volete ripetere, parola di Mercurio in quadratura, ottimo guardiano, con lui sulla porta non entra nessuno. Amore ed Eros. Causa di malumore e di frizione in coppia la vostra possessività, basta un indizio al di fuori dei soliti schemi per scatenare il vostro spirito indagatore. Malcontento in famiglia, in realtà le cose girano bene, ma voi non siete mai soddisfatti e pretendete sempre di più. Un viaggio con la persona amata è probabile possa saltare, ma voi non ci fate tante storie, riorganizzando al più presto e con la vostra energia infaticabile, un altro itinerario e altre rotte. Perché la capacità che mostrate di saper superare l'imprevisto, anzi di trovare impensati elementi di divertimento, vi avvicina ancora di più alla vostra dolce metà. Lavoro e denaro. Se oltre alla casa e i suoi abitanti a trattenervi in città e anche l'attività in proprio non pigliatevela male, meglio avere un lavoro impegnativo e ben remunerato che non averlo affatto. Soddisfatto chi anche come ogni domenica raggiunge l'appartamento di vacanza, dove ormai si sente a casa, ritagliandosi del tempo per il bricolage e la cucina, nulla di esalante, ma piacevole e rilassante sì. Oggi che è domenica e se lavorate, non date peso a un impegno che non siete riusciti a portare a termine. Vedrete che la settimana prossima avrete nervi più distesi ed energie per realizzare compiutamente e rapidamente ogni progetto intrapreso. Benessere. Chi ha appena iniziato le vacanze e si sente spappolato, punta sul benessere, anche nei discorsi da spiaggia la parola salute viene spesso fuori dal mucchio, segno che sta diventando un argomento di punta. Tutti più o meno nella stessa barca, insieme alla dieta e ai chili persi per mostrarsi senza vergogna in costume. Diversa la situazione per chi è già di ritorno, delle abitudini prese in vacanza conservate quelle buone, lasciandovi alle spalle quelle inutili o dannose, si riparte con un programma salutista di tutto rispetto. Per lei, chiudendo casa anche solo per 48 ore le solite visioni paranoiche, i ladri, la tempesta, l'incendio. Attente, pensando male lo si evoca, piuttosto immaginate una bolla protettiva attorno al vostro castello e un bell'innaffiatoio che indiretta dal cielo disseti i vostri fiori in vostra assenza. Per lui, tra i primi a partire e tra i primi anche a tornare, belli e abbronzati sì, ma col cuore bucarellato, convinti che una volta tornati in città ve la sareste levata dalla mente. E invece no, lei, la fata che avete incrociato sul bagnasciuga è ancora lì, fissa nei vostri pensieri e non si schioda. Per la vostra malattia non c'è che una soluzione, contattarla. Colore delle emozioni, beige rosato. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie a tutti.